C'è il governo Meloni, domani il giuramento al Quirinale 3, i Veneti nella lista dei ministri, Nordio alla giustizia, casellati alle riforme, Urso le imprese. Non ci sono più alibi alla vigilia dei 5 anni del referendum sull'autonomia, così il presidente del Veneto Zaia che ribadisce abbiamo affrontato il tema giuridico, ora con il nuovo esecutivo non ci sono più scuse. Nessun comune Veneto tra i destinatari dei fondi per la rigenerazione previsti da un bando del governo rivolto ai comuni con meno di 15 mila abitanti, la rabbia di Conte è uno scandalo. Questa non è giustizia, parlare è la mamma di uno dei quattro ragazzi di Musile morti in un incidente a Jesolo dopo aver appreso della scarcerazione del responsabile. Fermata dalla polizia locale di Verona, una 35enne aveva nel sangue un tasso alcolemico di oltre 3,5 grammi per litro, ai limiti del coma. Non fiavano i bilanci di aziende non più operative per ottenere finanziamenti pubblici, la guardia di finanza ha indagato 5 persone. Incidente mortale verso la mezzanotte di ieri a Solesino, la vittima, un piccolo imprenditore di 53 anni finito con l'auto contro una casa. Casa integrazione impennata di richieste nella marca ad ottobre, il presidente di Assindustria Veneto Centro Destro si appella al nuovo governo, bisogna salvare il sistema manifatturiero. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri notiziari, dunque c'è il governo di Giorgia Meloni e sono tre i dicasteri importanti che sono stati assegnati ad altrettanti veneti. Domani alle 10 al Quirinale il giuramento. I nomi quindi sono ormai ufficiali, presentati al presidente della Repubblica Mattarella. Si tratta del trevigiano Carlo Nordio, ex procuratore veneziano voluto proprio da Giorgia Meloni alla guida del Ministero della Giustizia. Nella sua carriera da magistrato ha condotto inchieste sulle Brigate Rosse in Veneto, su Tangentopoli e sul Mose a Venezia. Nordio è stato il nome blindato anche dalla russa durante le consultazioni tra gli alleati. Il Ministero delle Riforme va invece alla padovana Maria Elisabetta Casellati, ex presidente del Senato, caldeggiata invece da Silvio Berlusconi proprio al di Castero della Giustizia. Il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso Padovano, è diventato ministro dello sviluppo economico, a cui si aggiungerà in questo governo appunto la dicitura Made in Italy. Urso è noto per essere stato l'ex presidente del Copa, si era domani alle 10 il giuramento al Quirinale. E' sicuramente una delle prime gate da pelare che il nuovo governo dovrà affrontare, sarà quella dell'autonomia. Non ci sono più alibi, dice il presidente del Veneto Zai, alla vigilia dei 5 anni dal referendum, che coincide proprio con la vigilia dell'insediamento del nuovo governo. Zai ribadisce, noi abbiamo fatto i compiti per casa e affrontato il tema giuridico delle singole 23 materie. Ora con il nuovo esecutivo non ci sono più scuse. Sono passati 5 anni, 5 governi, 5 presidenti del Consiglio, 2 anni di pandemia, però oggi penso che si possa dire con tranquillità che non ci sono più alibi. 22 ottobre 2017, con un'affluenza di oltre il 57% ed una percentuale di sì del 98%, i Veneti hanno votato per l'autonomia della regione. E alla vigilia della nascita del nuovo governo, il presidente della regione Veneto Zai torna sul tema. Il governo che si sta insediando è un governo che ha le forze politiche che hanno sostenuto questo referendum. E la risposta a 2.273.020 va data. Voi ne sapete qualcosa, come televisione avete sostenuto con forza l'autonomia e penso che sia giusto ricordare tutti quelli che ci hanno creduto ed è giusto che tutti abbiano la risposta. Un tema caldo per il nuovo governo e che rischia di diventare incandescente nei rapporti tra le forze del centrodestra. L'autonomia non è la secessione dei ricchi, non è un auto di egoismo, ma invece la volontà di dire che è assolutamente in linea con la Costituzione. Non chiediamo nulla che sia di sovversivo, chiediamo l'applicazione della Costituzione. Se qualcuno ha cambiato idea sulla Costituzione, magari l'ha cambiata con la Costituzione in mano sventolandola, non può far altro che non fare guerra all'autonomia, ma andrà a chiedere che la Costituzione diventi assolutamente centralista e non federalista come oggi. Nessun comune Veneto figura tra i destinatari dei fondi per la rigenerazione previsti da un abbando del governo rivolto ai comuni con meno di 15.000 abitanti. La rabbia dei sindaci nelle parole del presidente del Lanci Veneto, Mario Conte. Progetti per la rigenerazione urbana dei comuni sotto i 15.000 abitanti. La pubblicazione della graduatoria del bando fa scoppiare la rabbia dei comuni del Veneto. Nessuno dei comuni della regione, infatti, figura tra gli enti beneficiari con le risorse finite per la maggior parte a comuni del sud. Una graduatoria che grida lo scandalo, scandalo perché per l'ennesima volta i comuni virtuosi, coloro che hanno dimostrato negli anni di sapere bene amministrare le risorse, oggi si trovano penalizzati da una graduatoria che contiene ancora l'indice di vulnerabilità sociale e di fatto tutti i soldi sono finiti al sud. Il bando prevede lo stanziamento di ingenti risorse statali da destinare ai piccoli comuni per progetti di rigenerazione urbana e decoro, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del tessuto sociale e ambientale. Dei molti progetti presentati dai comuni veneti, nessuno è stato finanziato. Conte, da presidente regionale del Lanci, si appella ai parlamentari veneti. Abbiamo chiesto uno sforzo ai comuni sotto i 15.000 abiettanti di aggregarsi, lo hanno fatto, hanno presentato delle progettazioni di livello e oggi si trovano totalmente esclusi da questa graduatoria. Noi non ne possiamo più di lavorare in queste condizioni. Io credo che o l'Italia cambia marcia e quindi punta alla meritocrazia, quindi quelle che sono le amministrazioni virtuose possono essere un traino per le amministrazioni più in difficoltà, ma se invece continuiamo a penalizzare e ad escludere dai finanziamenti quelli che hanno dimostrato nel tempo di saper bene amministrare, io credo che questo paese non avrà un gran futuro. E siamo alla pagina della cronaca, questa non è giustizia. A parlare oggi è la mamma di uno dei quattro ragazzi di Musile, morti nel drammatico incidente di Iesolo all'indomani della scarcerazione del responsabile di quell'incidente. Sentiamo. Siamo molto ramaricati perché, come abbiamo sempre detto, credevamo che la scritta che viene sempre letta dietro il tribunale, la legge è uguale per tutti. A questo punto mi sto chiedendo se è veramente vero quello che c'è scritto. Un'altra beffa. Dopo le continue richieste di giustizia, i genitori dei 4-22enne di Musile che nel luglio 2019 hanno perso la vita in un incidente stradale provocato da un trentenne rumeno si sentono presi in giro per l'ennesima volta. Dopo la conferma della condanna definitiva a otto anni, la scorsa settimana i familiari si erano recati in procura per chiedere spiegazioni sul fatto che Marinica non fosse mai stato in carcere, cosa che invece è avvenuta il giorno successivo. Ma a meno di una settimana il trentenne è stato scarcerato. Io chiedo una cosa sola. Esiste una legge? E se esiste possiamo veramente metterla in pratica? Perché a questo punto ci siamo sentiti presi in giro. Abbiamo avuto un accontentino, ma non crediamo più che esista veramente una legge che possa giustificare. La legge dovrebbe essere come una medicina, che cura la sofferenza di chi rimane. A questo punto credo che non esista né legge né giustizia. Quindi chiedo a chi ha potere, quindi dal governo o da chi è, guardate, controllate, modificate quello che potete fare. Legge vuol dire giustizia e rispetto. La polizia locale di Verona ha fermato oggi una donna 34enne che è risultata, pensate, avere un tasso alcolemico nel sangue di oltre 3,5 grammi per litro. Un dato davvero sorprendente che, secondo quelle che sono le tabelle del Ministero della Salute, comporta uno stato di incoscienza, allucinazioni, cessazione dei riflessi, incontinenza, vomito, in alcuni casi anche il coma con il rischio di morte. La donna era alla guida di un'auto. Ora per lei scatterà la denuncia penale con sanzioni dell'arresto da 4 mesi a 1 anno e un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro, oltre naturalmente alla sospensione della patente da 1 a 2 anni, ma anche la confisca del veicolo. Un fenomeno, purtroppo, quello della guida è stato di ebrezza particolarmente presente, sottolinea la polizia locale veronese. Da gennaio a oggi, pensate, sono state ritirate ben 193 patenti per guida in stato di ebrezza. L'anno scorso erano state 151, 95 nel 2020, 122 nel 2019. Gonfiavano i bilanci di aziende non più operative per ottenere finanziamenti illeciti. La Guardia di Finanza di Padova ha indagato 5 persone. Avevano ideato un sistema truffaldino per ricevere finanziamenti pubblici. La Guardia di Finanza di Padova ha indagato 5 persone per indebita percezione di erogazioni pubbliche e sequestrato quasi un milione e mezzo di beni. Le indagini delle fiamme gialle di Padova erano iniziate alla fine del 2020 e si sono concentrate su due società di Nocera Superiore, in provincia di Salerno, e l'Inbiate, in provincia di Monza-Brianza, che durante il lockdown per la pandemia avevano dichiarato di aver aperto filiali a Correzzola nella bassa Padovana, Verona e Bologna. I 5, 4 uomini italiani, tra di loro anche un consulente aziendale e una donna romena, avevano acquisito delle società non più operative intestandole a dei pressanomi. Poi avevano chiesto finanziamenti in banca presentando documentazioni false, inventando contabilità e gonfiando i bilanci per farle apparire sane. Oltre al finanziamento alle banche era stata chiesta la garanzia statale sostenuta dal Fondo per le Piccole e Medie Imprese istituito con la finanziaria del 1997. Per evitare gli accertamenti avrebbero poi trasferito con frequenza le sedi legali delle società aprendo conti in diversi filiali tra cui Candiana, Villa Franca Veronese e Chioggia. Una volta ottenuto, il denaro veniva trasferito con bonifici a Società di Milano, nel Mantovano, a Padova, Piove di Sacco, Rosolina e Nocera Superiore e poi dirottati su conti correnti in Romania riconducibili agli indagati che al termine delle indagini sono stati denunciati. Incidente mortale, restiamo nel Padovano a Solesino. La vittima è un piccolo imprenditore di 53 anni finito con l'auto contro una casa. Ogni soccorso dei sanitari del suo EMA 118 è stato vano. Non c'era fatta il piccolo imprenditore di origine marocchina di 53 anni finito contro il muro di un'abitazione dopo aver perso il controllo della sua auto in via 20 Settembre a Solesino, lungo la provinciale 84. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte a chiamare il 112 un cittadino. Sul posto i carabinieri di Est e i vigili del fuoco per le verifiche del caso, indagini sono in corso per stabilire le cause dell'incidente. Il piccolo imprenditore, residente a Sant'Elena, viaggiava solo in quel momento. E' incidente questa mattina all'alba a San Giorgio delle Pertiche. Un ciclista è stato travolto da un'auto che poi è fuggita. Erano le 6 quando in via Signoria ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche un ciclista proveniente dal centro del paese è stato travolto all'altezza di questo incrocio da un'auto che si è data alla fuga. Sull'asfalto i segni dell'incidente sono ben visibili. L'uomo è stato sbalzato finendo dal lato opposto della carreggiata. Immediati sono scattati soccorsi. Il ciclista è stato trasportato dai sanitari del suo M118 in ospedale a Camposampiero. Ferito non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono condotte dai carabinieri del radiomobile di Cittadella. Le forze dell'ordine stanno esaminando le immagini di tutte le telecamere della zona in collaborazione con la federazione della polizia locale del Camposampierese. Poche le auto in giro a quell'ora il cerchio potrebbe presto stringersi. Un lungo rettilineo via Signoria dove purtroppo spesso si corre troppo raccontano i residenti. Su quello stop lì sono successi altri morti. Corrono veramente forte e io non ho mai visto vigili su questa strada. La Guardia di Finanza di Venezia è riuscita a salvare un quattordicenne che scivolato in Canal Grande rischiava di annegare. Un quattordicenne per poco non annegava mercoledì pomeriggio nei pressi di Piazzale Roma mentre stava camminando è scivolato ed è caduto nelle acque del Canal Grande vicino agli imbarcaderi dei Vaporetti. In suo soccorso sono arrivati i militari della stazione navale della Guardia di Finanza di Venezia che in navigazione lungo quel tratto di canale hanno subito visto il quattordicenne in difficoltà. La pattuglia è stata tirata dalle urla dei passanti che cercavano di soccorrere il minorenne che ha rischiato di annegare per colpa dei suoi vestiti e dello zaino che gli facevano da zavorra. A bordo della barca della Guardia di Finanza il giovane ha ricevuto le prime cure fortunatamente se l'è cavata solo con un grande spavento poco dopo è stato affidato alla madre. Ma le fiamme gialle sono riuscite anche a individuare e denunciare per indebita percezione di erogazioni pubbliche cinque persone che volevano arricchirsi speculando sulla pandemia riuscendo poi anche ad ottenere il sequestro di beni per un milione di euro. Le indagini riguardano anche il veneziano e nello specifico Chioggia. Il modus operandi è scogitato dagli indagati quattro italiani e una donna romena prevedeva l'acquisizione di società non più operative formalmente intestate a prestanome appositamente create per avanzare richieste di finanziamento. Per garantirsi il credito bancario gli indagati, tra i quali figura anche un consulente aziendale hanno creato falsa documentazione contabile gonfiando i bilanci delle società e predisponendo documenti relativi a progetti da realizzare. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. Restate con noi, ci rivediamo tra poco. Rieccoci in diretta con il Tg del Veneto. Cassa integrazione da record nel mese di ottobre nelle prime due settimane del mese di ottobre in provincia di Treviso. Il presidente di Asindustria Veneto Centro si appella al nuovo governo affinché il problema della crisi energetica venga affrontato con urgenza. I dati shock dell'Inps sulla richiesta di cassa integrazione da parte di aziende della provincia di Treviso sono il segno del momento difficilissimo che molte imprese stanno vivendo alle prese con la crisi energetica, la carenza di materiali ma anche di commesse. 390 le richieste di cassa integrazione nelle prime due settimane di ottobre erano 317 in tutto il mese di settembre. Una cassa integrazione che è la conseguenza di una crisi energetica e del gas importante per il quale crediamo a gran voce che sia il primo importante passo e atto che faccia il nuovo governo. La richiesta delle imprese al governo che sta per nascere è forte e bisogna fare presto perché i rischi che corre il sistema produttivo sono altissimi. Le aziende in molti casi non riescono più ad andare avanti con questi costi dell'energia e del gas. Allo stesso tempo per alcuni settori c'è anche un momento di calo della domanda e quindi questo mix porta purtroppo ad alcuni dati. Altre aziende però invece viceversa stanno andando anche molto bene ma hanno bisogno di chiarezza e soprattutto di avere costi sicuri e certi perché è difficile navigare in queste acque. Io penso che bisogna salvare il sistema manifatturiero del nostro paese perché se non salviamo il sistema del nostro manifatturiero del nostro paese a cascata abbiamo un grande problema. Cinque imprenditori sanzionati quattro aziende sospese e sanzioni per 55 mila euro complessivi è l'esito dei controlli dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro con i militari di Mestre eseguiti nelle scorse settimane. Gli accertamenti erano finalizzati a garantire il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori e della loro sicurezza. In particolare in un cartiere di Marghera impegnato per la ristrutturazione di un edificio i carabinieri hanno scoperto la presenza di numerose aziende in subappalto non in regola sotto il profilo degli adempimenti in materia di sicurezza dall'assenza dei piani operativi di sicurezza alla non conforme collocazione dei ponteggi niente sistemi antincendio e nessuna formazione sulla sicurezza dei lavoratori. Tre operai inoltre erano in nero. Ed ora parliamo di temperature di riscaldamento perché a Vicenza è arrivata l'ordinanza del sindaco che impone l'accensione posticipata al 29 di ottobre una misura che punta a contenere l'inquinamento dell'aria e di consumi favorita anche dalle temperature miti di questi giorni. Ordinanza anti caro bollette decollano i costi di gas ed elettricità ma il sindaco di Vicenza Francesco Lucco ci mette la firma sì, ci mette la firma su un provvedimento per posticipare al 29 di ottobre l'accensione degli impianti termici di riscaldamento che il governo ha previsto di attivare il 22 di ottobre. Oggi ho voluto firmare un'ordinanza che ritarda al 29 ottobre l'accensione dei riscaldamenti fatto salvo naturalmente per posti sensibili come ospedali, case di riposo scuole ad esempio perché riteniamo che grazie alla bella stagione e alle temperature elevate si possa ritardare l'accensione. Il provvedimento vuole essere un antidoto al caro energia. Questa ordinanza permetterà a tutti enti pubblici ma anche a privati imprese e famiglie di risparmiare sulle bollette del riscaldamento in particolare o dell'elettricità per ritardando quindi l'accensione del riscaldamento. Il cielo ci aiuta l'autunno caldo del 2022 con temperature primaverili come non si vedevano dal 1800 è provvidenziale nell'anno nero del caro energetico. L'inverno ormai è alle porte ma nonostante questo ci saranno sicuramente molti vicentini che anche dopo il 29 di ottobre continueranno a tenere spento il riscaldamento finché resisteranno in nome del risparmio economico. E credo che saremo in tanti mi ci metto anche io perché devo dire che in questo momento accendere il riscaldamento mi spaventa e quindi per un bel po' rimarrà spento. E restiamo a Vicenza con la notizia di scritte no box che sono apparse oggi sui muri delle sedi sindacali e della scuola nel quartiere ferroviere. Una dura condanna del gesto da parte del segretario della CGL di Vicenza Paolo Zonni no alla violenza per esprimere le opinioni intanto è caccia ai responsabili. Ed ora ci spostiamo a Belluno dove è stato presentato oggi un manifesto etico in ricordo delle vittime della tragedia della Marmolada. Sentiamo. 3 luglio 2022 un frasuono cancella in pochi secondi vita e futuro di 11 alpinisti esperti scuote nel profondo che è rimasto ad osservare la drammaticità di un evento imprevisto e imprevedibile che è stato il motore di un'iniziativa maturata quando ormai il bilancio della tragedia è diventato chiaro a tutti. È nato così il manifesto etico della Marmolada. Cinque punti chiari per ribadire la necessità di continuare ad avere una montagna aperta sì ma ad una frequentazione consapevole. Frequentare la montagna vuol dire dover gestire gli aspetti del rischio legati all'oggettività dei rischi della montagna e alla soggettività dei rischi legati a chi la frequenta. Un processo complesso che deve essere aggiornato di pari passo ai cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo a ideare il manifesto le guide alpine del Veneto i primi sottoscrittori soccorso alpino e CAI regionale prevenzione formazione educazione l'impegno dei tre fautori del manifesto. Se noi riusciamo a informare le persone si prevengono tanti incidenti che possono succedere in montagna la montagna va affrontata conoscendola. Il prossimo 30 ottobre ad Alleghe il manifesto sarà presentato ufficialmente alla presenza dei familiari delle vittime della marmolada e dei supersiti anche da lì sarà ribadita la necessità di andare in montagna con la testa fuori dallo zaino. Ne vediamo sempre di tutti i colori in preparazione si nota la non pianificazione dell'escursione che si va a affrontare ma soprattutto uno deve essere consapevole dei propri limiti questo vuol dire che deve prepararsi allenarsi. Era questo l'ultimo servizio io vi ringrazio per essere stati con noi vi lascio come sempre alle previsioni del tempo arrivederci il meteo cooperativa agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a Volpago del Montello Pieve del Grappa Trebaseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago ben trovati al meteo un fronte atlantico indebolisce l'anticiclone africano portando qualche pioggia si tratterà comunque di un passaggio instabile piuttosto rapido ben presto seguito da un miglioramento vediamo insieme il dettaglio sul Veneto cielo all'inizio per lo più poco nuvoloso con ampie schiarite col passare delle ore precipitazioni più probabili sulle zone montane e pedemontane a carattere sparso invece altrove temperature in leggero aumento e gradevoli minime tra 8 e 16 gradi massime invece comprese tra i 17 e i 25 gradi all'incirca spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia anche qui cielo coperto con piogge moderate e localmente anche abbondanti dalla sera in attenuazione a partire da ovest temperature minime sui 13 17 gradi massime intorno ai 18 22 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige anche qui non cambia il contesto sarà molto nuvoloso con rovesci diffusi di intensità anche forte temperature minime intorno ai 9 gradi massime sui 21 gradi all'incirca dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci cooperativa agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità ci trovi a Volpago del Montello Pieve del Grappa Trebaseleghe e presso lo spaccio del Contadino a Dolo e Massanzago a Dolo